Di questa realtà cooperativa sono 635 gli ettari di vigneti di proprietà di 210 soci, mentre i restanti 15 appartengono direttamente alla Cantina Sant'Adi. Tutte le vigne si trovano nel raggio di 15 chilometri da Sant'Adi, sparse fra diverse località che ricadono su ben 17 comuni. I disciplinari sono rigidi e la remunerazione si basa sulla qualità dell'uva. I vini prodotti sono profondi, intensi, che guardano al mondo del solco di quel percorso avviato da Giacomo Takis, il fondatore, nell'ormai lontano 1984, quando arrivò come consulente a Sant'Adi.